I discordiani seguono. Serve aiuto? Vi serve aiuto? No, ho capito voi i cavetti per mettere a modo, ma ci siamo rimasti fermi ieri sera e quindi... Vabbè, perché se vuole ho i cavetti anche un po' più grossi, eventualmente. Se vuole ho i cavetti un po' più grossi o quelli per il camion. Vabbè, aspetto un attimo, dai. Questo vlog sarà pubblicato domenica 3 agosto 2014, ossia nell'anno della nostra signora della discordia 3.180, stagione della confusione, giorno 69, arancio tramontante. Se volete maggiori informazioni, potete guardare sul doobly-doo il link riguardo al calendario discordiano, oppure potete consultare la vostra ghiandola pineale. Benvenuti nel parcheggio talete, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Mettetevi comodi, fra poco partiamo. Il professor Lucius McIntyre, lo scienziato, l'ufficiale scientifico del brigantino spaziale Ferdinando Magellano mi riferisco al romanzo L'essenza oltre il buio che abbiamo scritto io e Francesco Candelari, il professor McIntyre, parlando con il comandante Federico Filetti Filetti e riferendosi ad Alex Keller, a un certo punto gli dice Ma non vorrai criticarlo per un pittoresco credo religioso? Tu, per esempio, non sei cattolico? Il professore non si riferisce al fatto che Federico Filetti sia cattolico? Cioè nel senso che sì, lo considera un credo pittoresco? Però si riferisce al fatto che Alex Keller, il personaggio del romanzo, è discordiano. Ora, il discordianesimo è un movimento religioso che, pur essendo parodistico, ha comunque quasi tutte le basi di una vera e propria religione, è nato alla fine degli anni Cinquanta, fondato da Malacripsi il Giovane, al secolo Gregory Hill, e da Lord Omar Khayyam Ravenhurst, al secolo Kerry Fonley, e... è basato su un'idea. Le religioni e i movimenti filosofici cercano nel mondo il... che perseguono, diciamo, lo scopo dell'armonia e dell'equilibrio. Il discordianesimo, invece, predica l'accettazione del fatto che la disarmonia e il caos facciano parte integrante della realtà. Il documento fondante del discordianesimo è il Principia Discordia. Principia Discordia che si dice sia stato scritto basandosi su un testo trovato da un raccoglitore d'immondizia intitolato «L'onesto libro della verità». I discordiani credono nella Dea Eris, la Dea greca Eris, ossia la Dea romana discordia. Una cosa importante del discordianesimo è il numero 5. E' talmente importante che esiste la cosiddetta «Legge dei cinque» che dice, recito a memoria, dice semplicemente «tutte le cose avvengono in cinquine, sono multipli di o divisibili per cinque o comunque, direttamente o indirettamente, riferibili al numero cinque». La legge dei cinque non sbaglia mai. Sempre ritornando al romanzo «L'essenza oltre il buio», infatti Alex Keller riconosce la legge dei cinque quando si parla di andare a recuperare del materiale nel quinto pianeta della stella. E lui ricade in questo discorso e si sveglia un po' questo discorso sul discordianesimo. Altro punto importante del discordianesimo sono i comandamenti cinque comandamenti, per così dire sono cinque, appunto non dieci, e cinque comandamenti che sono denominati il pentaconato, che non me li ricordo a memoria, quindi ve li leggo, ma dato che non posso leggere in macchina». Il pentaconato è un insieme di cinque doveri sacri del discordiano. Numero uno. «Non c'è Dea, tranne Dea, e lei è la tua Dea, non c'è movimento erisiano, tranne il movimento erisiano, ed è il movimento erisiano, e ogni corpo della mela d'oro è la dorata casa di un verme d'oro». Numero due. Un discordiano deve sempre usare il sistema discordiano ufficiale di numerazione dei documenti. Numero tre. È richiesto che un discordiano, nella sua fase iniziale di illuminazione, si allontani in solitudine e gioisca nella comunione con un panino con hot dog di venerdì. Questa cerimonia devozionale serve per protestare contro le numerose forme di paganesimo di oggi. Dei cattolici cristiani, niente carne al venerdì. Degli ebrei, niente carne di maiale. Degli induisti, niente carne di manzo. Dei buddhisti, niente carne di animali. E dei discordiani, niente panini da hot dog. Numero quattro. Un discordiano non mangerà panini da hot dog, poiché ciò è stato il conforto della nostra Dea quando subì il rifiuto originale. Numero cinque. È proibito a un discordiano di credere in quello che legge. È da considerare importante il quinto punto, la quinta legge del Pentagonato. È proibito a un discordiano di credere in ciò che legge. Dà il senso di come sia fondamentalmente una religione parodistica, di come sia una situazione nella quale bisogna combattere il dogma, bisogna considerare che le scritture possono essere sottoposte ad un'interpretazione e l'interpretazione può essere pesantemente soggettiva. E non bisogna che le scritture costituiscano un dogma. D'altronde, molti articoli del Pentagonato vanno, per esempio, in contrasto fra di loro, come il terzo e il quarto. Non si deve mangiare panino con hot dog, perché è stato un momento di salvataggio da parte della dea Eris, eppure chi si ritira spiritualmente mangerà un panino con hot dog. Per maggiori informazioni troverete molti riferimenti sul discordianesimo, almeno quello che riesco a trovare sul doobly-doo, e se ce la faccio, qualche altra informazione la metterò sul mio blog, quindi sull'articolo di riferimento a questo vlog, che in ogni caso sarà anche lui linkato sul doobly-doo, troverete maggiori informazioni sul discordianesimo. Questi sono vlog molto brevi, perché ho poco tempo, infatti riprenderò a settembre anche a parlare dei canali YouTube, per cui per oggi è tutto, noi ci vediamo domenica prossima, una domenica prossima vi parlerò di un'altra religione parodia e, infine, concluderò l'argomento parlandovi della mia scelta di coscienza. Ragazzi, questo è tutto. Noi ci vedremo domenica prossima, se questo vlog vi è piaciuto vi invito a fare pollice in alto, a condividere con gli amici, e se non lo avete già fatto, di iscrivervi al mio canale. Potete commentare nello spazio sui commenti, oppure su Twitter o memi con l'hashtag ddvotr, successivamente metterò i link per i prossimi aggiornamenti social. E dunque, fatemi un po' sapere quello che ne pensate. E questo è tutto, noi ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti e grazie!